Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove c'è un chilometro di coda per un veicolo fermo in avaria al chilometro 6 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sempre verso Pisa è entrata chiusa per lavori a Chiesino Zanese, entrata consigliata quella di Alto Pascio. In A1 tratto chiuso per lavori tra Aglio e Rioveggio in entrambe le direzioni, spostandoci in FIPILI rallentamenti per una perdita di carico tra Interporto, Toscano Est e Tirrenia in entrambe le direzioni. Svincolo chiuso per lavori a Ginestra Fiorentina in uscita provenendo da Firenze e in entrata in direzione Livorno. Uscita chiusa per lavori a Montopoli-Valdarno provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Muoversi in Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze